Bisogna riscoprire l'arte di rendere bello ogni istante. È venuta anche quasi la rima, eh? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Sembra quasi una presa in giro la mia, perché proprio in questo momento così tragico, in questo momento in cui qualcuno sta rifacendo la prova balcone perché non si sa mai quello che succede, parlare di rendere bello ogni istante? Perché bisogna dirlo, ci prende un po' un uggia, non solo perché fuori oggi la giornata è veramente uggiosa, come nella canzone di Lucio Battisti, e perché bisogna accendere tutte le luci, altrimenti questo grigio, questo grigio che tende all'oscurità, ti entra dentro l'anima, ti entra dentro ogni singolo pensiero e finisce per assediarti, per strozzarti, per soffocarti. Dobbiamo combattere contro questa delusione che diventa amarezza e poi depressione. E allora questa mia butade di rendere bello ogni istante non è una presa in giro? È solo una provocazione? O sta cercando di dire, e soprattutto a me, qualcosa di speciale? Io credo che sia un po' un dovere, un dovere di realmente aiutare noi e gli altri cercando di spremere fuori, da ogni singolo istante, perlomeno quel rivolo, quel piccolo succo che alla fine lo rende veramente bello, sia veramente capace di dare senso. Che cos'è la bellezza? È sapersi a volte fermare davanti a un tramonto, davanti anche a una giornata grigia per vedere le sfumature, per vedere i colori, davanti a una delusione, per vedere in che modo comunque può darmi magari spunti, stimoli, carica, peraltro. E davanti al dolore è forse la cosa più difficile ed è facile dirlo quando il dolore non è mai così tagliente, così bruciante come altri. Ma io credo che quest'invito che ho letto da qualche parte e che ho trascritto nel mio quadernino delle note che mi aiutano a raccontare questi caffè, quando l'ho scritto mi ha colpito talmente tanto da dire sì, questo bisogna farlo, rendere bello ogni istante. E allora chiedo a voi di nuovo aiuto. Come fate? Ci riuscite? Cosa vi inventate per rendere bello per voi e per gli altri ogni singolo istante? O quegli istanti che voi riuscite a rendere belli? Tempo fa avevo iniziato una serie sui social fotografa la giornata, fotografa la giornata bella e dimmi perché questo momento, questa giornata è bella. E qualcuno diceva spero di averne almeno sette in un anno. No, secondo me ogni giornata è bella. C'è il famoso diario che utilizzano anche coloro che sono diventati famosi, che hanno avuto successo, direi piuttosto così. Il famoso giornale dei cinque minuti, il diario dei cinque minuti, che comincia dicendo che cosa ho imparato oggi perché oggi è una giornata della quale rallegrarsi. E allora forse dobbiamo veramente fare così anche noi, tutti noi. Buongiorno e buon caffè.